ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non ci conosce noi siamo rossella e alberto ciao alberto ciao a tutti bene siamo qui per fare la nostra lettura angelica valida per la durata di una settimana dal momento stesso in cui state guardando questo video va bene utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte delle fatte abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza ok queste sono di dorin virtù stampate da maraif in italia e poi abbiamo le carte degli angeli della guarigione volevo dire che noi lavoriamo con le frequenze angeliche dell'arcangelo michele degli angeli che operano in comunione di intenti con l'arcangelo michele quindi anche se utilizziamo altre carte le frequenze l'energia degli angeli e quella della coscienza michaelica usiamo fare una preghiera di protezione prima della lettura delle carte e poi andremo a fare la stesura delle carte e porteremo i messaggi degli angeli e dell'arcangelo michele volevo ricordarvi che noi suddividiamo in capitoli la lettura quindi se volete passare da un capitolo a un altro è possibile fare questo da dal punto dove c'è la descrizione dei dei video ok se vi fa piacere potete iscrivervi al nostro canale e ricevere tutte le notifiche con tutti i nostri prossimi video le nostre prossime letture e tutti i video che riguardano gli angeli e la crescita personale spirituale con gli angeli e con l'arcangelo michele bene iniziamo alberto invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di alberto gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci seguono in questa lettura angelica invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole d'azione l'energia delle carte l'energia del luogo in cui ci troviamo con amore vi chiedo di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro incondizionato con amore arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore la pace la guarigione e che tutto ciò che opposta di alla luce l'amore va dal di fuori di noi alla luce del creatore che sa cosa deve fare chiedo massima protezione psichica per me per tutte le persone coinvolte durante questa lettura angelica e che i messaggi che stanno per arrivare possano arrivare al maggior numero delle persone possibili per il massimo bene supremo e il massimo bene di tutte le persone coinvolte grazie 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 è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità allora andiamo a mischiare le carte sia onesto con te stesso per la prima carta carta interessante visualizzazione terza carta una vacanza questa è proprio saltata fuori parliamo diciamo di abbondanza vediamo per questo nuovo anno quali sono i messaggi di abbondanza per manifestare l'abbondanza nella nostra vita il potere della preghiera eccola qui è saltata fuori bisogna lasciare andare la gelosia anime infinite e basta la mentele oggi importanti vediamo per l'aspetto della guarigione energetica psicofisica cosa ci vogliono dire gli angeli è uscita la carta dei bambini fa a che vedere col nostro bambino interiore miracoli infiniti alle porte e romanticismo ok vediamo un po' diciamo una lettura abbastanza estesa in vari argomenti allora iniziamo con col fatto che l'arcangelo michele gli angeli gli esseri di luce ci stanno invitando a essere onesti con noi stessi ok questa è una carta molto molto importante perché alle volte noi troviamo delle scuse delle scuse per non affrontare un problema delle scuse per non prendere in mano le nostre responsabilità per non prendere in mano la nostra vita e questo è mancanza di onestà con noi stessi non vogliamo ammettere non vogliamo accettare magari anche laddove non abbiamo il coraggio di agire laddove non abbiamo il coraggio di fare determinate cose o di o anche addirittura di avere anche l'umiltà di dire che abbiamo sbagliato che una cosa non è esattamente come diciamo noi cioè ci vuole una bisogna fare un lavoro di introspezione dice l'arcangelo michele dicono gli angeli delle fatte e questo ci consentirà assolutamente di fare chiarezza dentro di noi di comprendere cos'è la cosa più giusta per noi come meglio agire come anche rimediare laddove abbiamo commesso degli errori va bene ok abbiamo stiamo parlando di manifestazione in questa lettura e questa carta non non fa parte delle carte degli angeli dell'abbondanza però è uscita la carta della visualizzazione cioè bisogna visualizzare il successo bisogna visualizzare quello che noi vogliamo manifestare quello che noi vogliamo realizzare nella nostra vita anziché focalizzarsi con pensieri negativi eh pensare sempre in negativo anche quello è visualizzare quindi cerchiamo di usare la visualizzazione a nostro favore cerchiamo di visualizzare quello che noi vogliamo realizzare con quali persone vogliamo trascorrere il nostro tempo eh quanto vogliamo guadagnare come vogliamo sentirci come vogliamo eh come vogliamo eh sentire nel nostro cuore la gioia l'abbondanza la gioia infinita la bellezza l'esperienza positive positive ecco cerchiamo di sognare un po' di sognare un po' ad occhi aperti e di portare a nostro vantaggio il potere della visualizzazione che è un potere di manifestazione reale è venuto anche il mondo magari facciamo questo mentre andiamo a passare o a trascorrere il weekend ok magari in un luogo tranquillo in mezzo alla natura ci farebbe molto bene respirare aria aperta magari stiamo lavorando un po' troppo psicologicamente e fisicamente magari abbiamo bisogno un attimino di staccare e di goderci un pochino di più eh la vita l'esperienza della vita va bene quindi questa potrebbe essere una vacanza a medio lungo termine cioè potrebbe essere un weekend o addirittura una settimana staccare e goderci un pochino eh la vita vivere nella gioia nell'amore e poi è uscita anche la carta del bambino interiore quindi magari è venuto anche il momento di far giocare quel bambino quella bambina che magari stanno un po' eh piangendo perché dobbiamo esprimere la nostra creatività la nostra gioia e abbiamo bisogno un po' di staccare dalla solità routine va bene? per quanto riguarda la manifestazione è fondamentale la preghiera quindi rivolgersi agli angeli all'arcangelo Michele eh ai nostri cari che sono in cielo di aiutarci nel nostro nel manifestazione del nostro desiderio o dei nostri desideri che sono dell'anima che a cui teniamo veramente non rimaniamo attaccati a un particolare risultato ma la preghiera giornaliera poi nel medio lungo termine porta i suoi risultati è anche vero che l'arcangelo Michele e gli angeli ci stanno invitando a uscire dalla competizione uscire dalla rivalità eh da tutto quello che ci può creare rottura dentro di noi può abbassare le nostre frequenze può rallentare la manifestazione dei nostri sogni quindi la gelosia non ha senso la gelosia è ego però è anche vero che siamo umani e che questa gelosia alle volte nasce da parti inconsapevoli del nostro essere eh quindi non dobbiamo sentirci in colpa se proviamo gelosia però possiamo provare a guarirla questa gelosia come attraverso la preghiera attraverso la purificazione attraverso il perdono di noi stessi e degli altri va bene e quindi avere anche mandare anche benedizioni a chi ha più successo di noi a chi sta avendo più risultati più grandi dei nostri e magari anziché entrare in competizione con quelle persone cerchiamo di dare il meglio di noi stessi ok dare il meglio che possiamo per emergere noi per eh diciamo se dobbiamo competere con qualcuno facciamolo con noi stessi però in maniera sana in maniera eh gioiosa in maniera eh dove veramente diamo il meglio di noi vogliamo eh raggiungere i nostri obiettivi più alti in nome dell'amore e quindi non attraverso eh quindi non attraverso eh sforzature non attraverso competizione non attraverso rabbia gelosia e invidia nei confronti degli altri non ha senso lamentarsi quindi veramente è venuto il momento di uscire dalla lamentela se perché lamentarti vuol dire non stai facendo abbastanza quindi eh non 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 ha senso la lamentela la lamentela può starci all'inizio può essere un momento di sfogo però poi bisogna agire bisogna reagire agire e bisogna allinearsi all'amore e poi riprendere a focalizzarci nella direzione dei nostri obiettivi va bene bene la carta del bambino interiore è venuto il momento di giocare è venuto il momento di prendersi cura di noi stessi l'abbiamo già visto nelle carte precedenti è venuto il momento di guarire il nostro cuore attraverso il perdono attraverso la lasciare andare il risentimento la rabbia la competizione tutto quest'ego che ci mette contro gli altri ma anche contro noi stessi alle volte anche eh allo specchio magari ci guardiamo e non mandiamo amore alle nostre cellule e cerchiamo di invertire il processo cerchiamo di guardarci con amore eh se abbiamo qualche chilo di troppo eh impegniamoci a cambiare alimentazione guardiamoci con amore benediciamo l'immagine che vediamo facciamo un po' di esercizio fisico mangiamo sano eh benediciamo la persona che vediamo davanti allo specchio eh è anche venuto il momento di avere il coraggio di eh l'umilità di ascoltare i bambini per chi ha dei figli e questa carta per chi ha dei nipoti per chi ha dei piccoli bambini eh cuginetti fratellino sorellina eh questi bambini hanno un'energia nuova e hanno anche una grande saggezza e se sono un po' iperattivi sono un pochino eh magari fanno i capricci in realtà bisogna anche ascoltare il disagio dei bambini se questo disagio è un disagio che sta dicendo voglia di giocare alla vita o voglia di uscire allora cercate di uscire dalla vostra solita routine e prendervi cura di questi bambini e ascoltarli perché hanno cose importanti da 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 dirvi e dei messaggi importanti da darvi va bene? assolutamente i miracoli infiniti sono alle porte la settimana scorsa è uscita la carta dell'abbondanza infinite adesso miracoli infiniti magari state pregando per un particolare risultato questa è una carta positiva e sta dicendo che molto probabilmente eh si sta per manifestare un tuo sogno un qualcosa di eh di di importante nella tua vita va bene? e c'è un romanticismo alle porte nel senso che per molte persone si sta avvicinando il momento di conoscere una nuova persona o di intensificare il rapporto che già state vivendo con una particolare persona quindi romanticismo più romanticismo anche nella vostra vita anche nei confronti di voi stessi ma anche nei confronti del vostro partner va bene? ok? bene io ho finito la lettura adesso ci sarà Alberto che riprenderà la lettura eh darà la sua visione e ulteriori messaggi che arrivano per lui ok? Alberto la vedi? sì 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 vedo benissimo grazie sì allora sicuramente una lettura molto variegata prima di tutto come hai detto tu e con sempre di più lo stiamo vedendo questo con carte tutte molto conseguenziali no? infatti prima carta sii onesto con te stesso abbiamo delle ali di farfalla fra l'altro e una libellula sono due animali simili ma non proprio uguali la libellula fra l'altro in inglese si chiama dragonfly che è molto interessante quindi è una specie di dragone che vola quindi è il primo presupposto essere onesti con se stessi ma appunto per noi stessi perché dopo non è che la gente ti viene a casa e ti dice ma cosa fai nella vita sei tu che devi rispondere a te stesso e se tu sei onesto voglio dire è il primo passo poi per star bene di conseguenza no? quindi chi sono io cosa voglio fare che pensieri ho in questo momento com'è la mia realtà facendo questa sorta di bilancio io posso posso mettere ordine posso fare chiarezza nella mia vita se io invece a qualche livello non sono onesto magari dico che fa tutto schifo ma in realtà dentro di me magari so che non mi sto impegnando non me la racconto giusta sto scappando da qualcosa di me stesso sono distante dalla verità ma dal mio centro e quindi fondamentalmente me la faccio da solo no? quindi direi che è un inizio piuttosto perentorio sicuramente di lettura visualizzazione subito dopo che abbiamo raggiunto questa onestà presunta perfetto nella mia vita scopro che voglio fare quella roba lì mi ci vedo prima di tutto è veramente la cosa giusta sono all'altezza anche qui ma non perché la gente mi ferma per strada e mi dice ma tu cosa fai ma ti ci vedi è la cosa della vita per me quindi io voglio fare il pittore devo vedermi in quella cosa lì se no è meglio fare altro se non mi immagino perché non è la mia cosa perché non mi considero l'altezza oddio la gente mi prenderà in giro eccetera ma se io la sento veramente mia mi visualizzo mi vedo contento a fare l'artista di strada piuttosto che ad avere la mia galleria è veramente la cosa che mi fa star bene no? e cerco di visualizzare poi in modo sempre più dettagliato all'inizio magari sarà un'immagine sfocata poi ci saranno sempre più dettagli le persone intorno i colori le immagini sensazioni belle nel cuore e da lì si passerà ad altro ovviamente bisogna fare anche delle cose tutti i giorni non è che visualizzo ciao sono arrivato lì no bisogna fare dei passetti anche con delle azioni naturalmente però la visualizzazione non trascuriamola perché ripeto dopo che noi abbiamo fatto chiarezza siamo onesti riusciamo anche a vedere a vedere oltre perché delle volte non vediamo perché proprio c'è qualcosa che non vogliamo vedere allora non andiamo avanti nella vita se non vogliamo vedere delle cose anche perché poi il mondo esterno comunque te le fa vedere certe cose quindi è proprio non voler vedere è proprio molto ostinato no? e quindi uno poi proietta si arrabbia col mondo ma figlio mio parti da dentro di te certo una vacanza giustamente periodo anche giusto periodo molto particolare quindi ci sta ci sta un piccolo periodo di vacanza ovviamente come diciamo sempre non è per forza una vacanza di un mese alle Maldive può essere semplicemente mi prendo un'ora diversa per me oggi piuttosto che faccio spazio nell'armadio piuttosto che cioè io una vacanza non la vedo semplicemente come prendere andare al mare in montagna è un fare spazio secondo me in generale no? un dare spazio alla propria originalità vedere se magari c'è qualcosa di cui non ci siamo presi cura no? di noi stessi a partire proprio dalle piccole cose da quello che facciamo in casa dal nostro approccio perché anche perché in questo momento sappiamo benissimo che non si può fare granché perché magari vuoi farti un giro vuoi andare in Germania che cavolo ne so poi arrivi là fai il tampone risulti positivo ti tocca rimanere lì quindi in questo momento piuttosto di andare in giro è meglio magari basarsi su quello che abbiamo intorno partiamo da piccole cose ecco poi quando si potrà tornare a fare delle cose con una certa sicurezza possiamo anche andare in Australia al momento partiamo dalle piccole cose ecco che poi sono le più grandi in realtà lascia andare la gelosia giustamente questo è molto importante perché la gelosia è proprio una delle grandi illusioni no? è proprio un confronto con gli altri che ci porta a sentirci a qualche livello inferiori perché non lo so gli altri sono più belli hanno più soldi sono stati più fortunati ma non è detto cioè vediti come ti vede Dio poi tu non puoi sapere gli altri veramente come gli va la vita magari apparentemente sembra che uno stia meglio di te ma bisogna vedere quello che ha passato cioè tu focalizzati su di te non fare come hai detto bene tu prima non fare confronti tu sei tu l'importante è che tu faccia chiarezza avanzi anche a piccoli passi ogni giorno ma la gara è fra te e te cioè tu creati la tua bolla tra virgolette cerca di focalizzarti e di fare delle cose ogni giorno non guardare intorno a quell'altro che è più veloce perché è un'illusione ognuno ha il proprio percorso ci sarà sempre qualcuno più qualcuno meno altrimenti poi lì vedrai tutto ingiusto ama l'altro ha avuto più mezzi ama guarda quello lì poverino io cerco di essere migliore possibile e aiuto agli altri questo deve essere il mantra e la gelosia se ne va basta la mentele anche questa va di pari passo non se ne può più perché soprattutto adesso che già una situazione sufficientemente complessa cerchiamo comunque di essere grati perché sappiamo benissimo che c'è gente che sta male c'è gente che ha perso il lavoro noi cerchiamo di alimentare i pensieri positivi di stare con persone piacevoli voglio dire la lamentela è un vero e proprio vampiro di energia c'è un conto è fare una critica costruttiva guardate io in questa situazione farei x ed è un conto cioè mi pongo in modo proattivo un conto è invece fare delle polemiche sterili che non portano a nulla che avvelenano l'ambiente e fanno stare male tutti no quindi questo questo dovrebbe proprio essere il classico poster da mettere nelle stanze del bagno basta la mentele gratitudine faccine positive imparare dalle esperienze la lamentela non serve a nulla potere della preghiera due cose rapidissime e lo dico ne parlano tante canzoni alcune sono delle vere e proprie preghiere c'è una canzone di bruce springsteen recente che parla proprio del potere della preghiera un'altra cosa un'affermazione che suggerisco di scriversi ogni giorno la mia priorità più elevata quotidiana è pregare nel senso se io oggi ho avuto una giornata bella brutta quello che è ma ho pregato è un conto se non ho pregato ho sbagliato non ho trovato il tempo non ci sono scusanti può bastare anche un minuto cinque minuti il tempo bisogna trovarlo perché la preghiera ti fa stare bene la preghiera è una richiesta è manifestazione è amore è tantissime cose messe insieme ma se tu non la reciti non l'ascolti eccetera non è che le cose accadono da sole no quindi la preghiera è fondamentale fondamentale bambini bambini giustamente il bambino interiore soprattutto in questo momento c'è veramente da imparare dai bambini no che non si arrendono mai si inventano sempre qualcosa giocano qui giocattoli e poi disegnano e poi guardano la tv loro a loro non gliene frega niente della situazione loro cercano di star bene sono sempre attivi no si pongono mille domande se hanno un problema lo dicono apertamente non sono musoni no c'è solo da imparare dai bambini piccolo aneddoto perché questo è un periodo veramente di sincronicità incredibile e per esempio ho notato che mio papà ultimamente dice delle cose che spesso si verificano si vede che è molto allineato non lo so per esempio oggi non so come è saltato fuori il discorso parlava di una canzone di di purple una canzone lunghissima che parla del bambino interiore che è meravigliosa fatalità vado in macchina accendo la radio c'era quella canzone lì me la sono ascoltata tutta bellissima cioè rapporto col bambino interiore è troppo importante una risata un urlo bisogna esprimersi perché sennò quel bambino lì ripetiamo per l'ennesima volta sta male poverino quindi esprimiamoci i miracoli i miracoli arrivano perché se tu sei allineato stai bene sei in fiducia i miracoli sono una conseguenza una conseguenza naturale come dice fabio marchesi fondatore dell'entusiasmologia purtroppo tante volte i miracoli non accadono perché la gente non ci crede cerchiamo di fare massa critica di persone che credono che hanno fiducia ok miracoli sono cose normali ma torno a dire come quello che abbiamo detto prima bisogna prima fare chiarezza fare ordine fare quello che ci fa stare bene sentiamo anche le sensazioni del corpo una cosa ti dà le farfalle nello stomaco o senti un pugno se senti un pugno non farla se senti le farfalle farla 50 volte cioè focalizziamoci le cose che ci fanno star bene continuiamo a farle è l'unico modo da stare bene infine infine romance in realtà è una parola un po difficile da tradurre perché sono quelle parole inglesi un po un po particolari però l'immagine parla da sé voglio dire no perché anche qui quando arriva il chiamiamolo romanzo ma non è la parola giusta romanticismo e il come si può dire il no legame mi viene in mente amore psiche come si può dire vabbè quando quando mente e cuore sono allineati no quando tu dentro di te ti accetti sei allineato sei tutto unito non c'è oscurità hai trasceso l'ego eccetera tu stai da dio prima di tutto e poi ci sono buonissime probabilità che tu possa manifestare cose meravigliose anche all'esterno la persona giusta il lavoro giusto invece se tu non hai un buon rapporto con te stesso ha voglia poi ad andare in giro per il mondo a sperare che accada qualcosa certo uno potrebbe dire sì ma io ho lavorato su di me anche il mondo esterno può fare la sua parte e aiutarmi per l'amor di dio certo ma è meglio che prima tu fai introspezione impari anche a stare un po più da solo e così sarai anche più nel dare rispetto verso gli altri più che nel ricevere no il bisognoso non voglio dire vampiro ma quello che va in giro a cercare consigli a e dell'emosinare tra virgolette da tutti quello è l'approccio più sbagliato è la cosa più distante che ci sia dall'amore l'amore è avere il coraggio di guardarsi dentro e porsi in una condizione di 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 dono appunto verso gli altri cercare proprio di di dare la propria originalità no no non sempre di copiare o di aspettare qualcosa dagli altri io faccio il primo passo io oggi cambio la mia vita io oggi cambio alimentazione perché oggi è il giorno giusto non domani giusto per concludere e basta con i dovrei dovrei far benzina che cavolo ne so la cosa più stupida vado a far benzina cosa faccio rimango a piedi con la macchina oppure mi è andata male nella mia vita per dieci anni un disastro su tutti gli ambiti bene comincia a cambiare i tuoi pensieri in un secondo la tua vita può diventare meravigliosa in un secondo mica però dipende da quanto ci credi da quanto si è disposto ad impegnarti assolutamente bene bene grazie alberto grazie mille bene la nostra lettura per questa settimana è conclusa volevamo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta come canalizzazione dell'arcangelo michele per aiutarvi a come dice avere la guida e l'assistenza di cui avete bisogno in questo momento ci occupiamo anche di facilitare la guarigione nelle altre persone con le nuove frequenze di luce per aiutarvi a portare equilibrio a livello fisico mentale emozionale e spirituale laddove avete bisogno un lavoro molto potente che io alberto facilitiamo è logo ceiling lo logo ceiling è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola e che vi aiuta a recuperare tutta la vostra energia vitale per riportarla nel posto più giusto in voi stessi e per lasciare andare tutte le energie non vostre che vengono proprio rilasciate dal vostro corpo fisico mentale emozionale spirituale dal vostro intero spazio personale dall'intero vostro essere e quindi diciamo voi andate a recuperare il vostro pieno potere a sentirvi più forti più coraggiosi più determinati più lucidi più equilibrati e più radicati ecco questo è un lavoro molto potente è potentissimo e viene utilizzato per eliminare le paure per cambiare i sistemi di credenze limitanti per eliminare il malessere fisico anche mentale emozionale per riportarvi veramente a uno stato di equilibrio ok quindi contattateci per maggiori informazioni vi lasciamo anche le testimonianze qua sopra eh così ascoltatele così vi rendete conto veramente di che cos'è questo lavoro volevo infine ricordarvi che il ventitré il ventiquattro di eh aprile ci sarà il seminario dal vivo di connessioni angeliche eh dove insegneremo come imparare a connettersi con gli angeli in maniera corretta ok con la protezione dell'arcangelo michele utilizzando il radicamento facendo un lavoro mirato equilibrato e completo quindi se siete interessati contattateci noi vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima ciao ciao un bacione a tutti ciao 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 ciao